Ben trovati, pensavamo che le telenovela sulla questione delle candidature si fossero esaurite con le elezioni regionali consumatesi nell'ultima domenica del mese di febbraio scorso. Ancora un po' di telenovela c'è stato durante lo spoglio per le elezioni e un po' di telenovela minima, devo dire, sull'insediamento del Consiglio regionale e l'individuazione dei nuovi assessori. Però, dicevo, in Sardegna ormai tutto si sta trasformando in soppopera forse. Anche le candidature per le elezioni comunali, risolta la questione Cagliari col centrodestra che ha scelto Alessandra Zedda, col centrosinistra che ha scelto un altro Zedda, Massimo ex sindaco che si ripropone, con Giuseppe Farris che mi pare il più attrezzato fra i candidati civici fuori dai pori, dicevo, nelle altre due città, però, Sassaghi e Alghero, la situazione è tutt'altro che rosea. Il centrodestra ha da tempo individuato il rettore Gavino Mariotti, i civici che hanno vinto le elezioni cinque anni fa hanno virato sull'ex assessore. Lucchi, il centrosinistra, posto che la poltrona di candidato dovrebbe andare a un esponente dei democratici, non sa ancora scegliere tra l'ex sindaco e l'ex consigliere regionale e presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, è il coordinatore provinciale del PD Magia. Ancora peggio va per il centrodestra, per esempio, a Alghero, dove Marco Tedde, ex sindaco, ex parlamentare, scusate, ex parlamentare regionale, ex consigliere, che aveva avuto una sorta di investitura, non avrebbe il riconoscimento di tutti gli alleati a livello locale, tanto che i riformatori starebbero persino pensando di andare col centrosinistra. Centrosinistra che a sua volta non ha ancora un candidato strutturato. Mancano pochissimi giorni alla presentazione delle liste, alla definizione delle candidature e questo significa che anche il risultato delle elezioni regionali non ha portato chiarezza nei due polini. In tutto questo di mezzo c'è anche il consiglio, il congresso dei SDAZ, esordio del 17, poi la definizione nel fine settimana, l'unica mozione presentata è quella del segretario nazionale uscente Cristian Solinas e vedremo, in genere le assise dei sardisti sono sempre abbastanza movimentate e chissà che non venga fuori qualche sorpresa, quantomeno dialettica, anche dal dibattito di questo fine settimana, noi saremo qua naturalmente per informarvi.